ciao a tutti e benvenuti alla undicesima lezione dell'atomia prima di cominciare ringrazio tutti quelli che sono iscritti al canale nonostante io non riesco a caricare i video e abbiamo sforato 500 per cui grazie a tutti l'altra cosa che vorrei dirvi allora mi fa molto piacere che i video vi piacciono mi fa molto piacere che alcuni di voi mi abbiano contattato in privato via mail eccetera eccetera e l'unica cosa che su cui insomma vi do qualche dritta è che non faccio lezioni telematiche non faccio lezioni private non vi do lezioni o suggerimenti via mail eccetera eccetera per cui non mi mandate disegni chiedendomi come si fa a fare questo o come si fa a fare quell'altro perché non è possibile a livello didattico poter insegnare delle cose così specifiche e così approfondite in poco tempo via mail non faccio questo tipo di lezioni per cui se volete mandarmi delle cose io le guardo e le correggo mandatemi l'autorizzazione perché le correggo solo facendo altri video per cui non vi correggo in privato la roba e però non posso farvi lezione non mi interessa farlo i video questi video li quali faccio anche per uno scopo didattico mio per cui non come si dice vi ho dato un dito non vi prendete la mano per intenderci io vi consiglio di andare su mi pare si chiami udemy trovate centinaia di migliaia di video corsi specifici per ogni argomento photoshop come si dipinge come come si fa questo come si fa quell'altro costano 10 euro e come come dovreste imparare soprattutto per chi vorrebbe fare il disegnatore di lavoro il vostro lavoro e la vostra professionalità devono avere un prezzo per cui quando attingete a delle risorse a parte quelle gratuite dovete mettere in conto che dovete pagare in qualche modo questo tipo di risorse questo è importante questo tipo di etica importante perché per chi di voi diventerà un disegnatore ci scontrerà spesso con questo aspetto del nostro lavoro per cose più approfondite o specifiche eccetera eccetera non darò nessun tipo di indicazione ok a chi me la chiede seppur apprezzo il fatto che mi contattiate cercatele online o comprate dei video corsi che sono degli ottimi strumenti di crescita personale detto questo scusate il pippone ma era era necessario detto questo prima di passare alla struttura muscolare introduco un altro passaggio che è quello della silhouette fino adesso abbiamo visto le fasi di struttura e di volume ok per cui cerco di fare velocemente quello che abbiamo visto insieme in questo modo quando abbiamo fatto il manichino partendo dalla struttura c'era nostro metto fatto di sfere e di linee ok per cui lo faccio velocemente allora questo il nostro meno fatto di stecchi eccetera eccetera dopodiché ci abbiamo messo una fase di volumi per cui alleggerisco questo ci metto sopra un altro un altro livello e faccio un mio livello dei volumi vedete che quando passo da un da uno step all'altro se ci sono delle cose che secondo me non funzionano tipo questa gamba qua era troppo esagerata la sistemo mentre faccio il passaggio successivo in modo che non perdo tempo e il risultato finito comunque sia soddisfacente teoricamente adesso potremmo anche cominciare a disegnare i muscoli per capire se avete azzeccato un minimo i volumi vi consiglio di fare un'analisi della silhouette per cui se lavorate in digitale è più facile se lavorate a mano è un pochino più complicato però il passaggio è identico per cui non faccio altro che crearmi un altro livello e fare quello che fa la pelle fondamentalmente sui nostri volumi cioè le ricopre tutte ricoprite l'intera figura con una linea più o meno continua che possa suggerire quelle che saranno la parte muscolare del del nostro manichino per cui ammorbidiamo tutte le linee e facciamo il nostro omino adesso non mi soffermo sulle mani perché li vedremo a parte ok cancello quello che c'è sotto ora quello che vediamo è quella che sarà più o meno la silhouette del mio personaggio la domanda che dovete farvi è sembra un essere umano cioè è la silhouette di quello che volevo disegnare perché è importante questo aspetto qua perché se la vostra struttura no fatta di volumi è fatta usando una metafora a cazzo per cui i volumi ve li fate così come se non fossero importanti tirando via perché so che è una parte noiosa quando fate quel questo passaggio qua vi trovate questa roba qui allora viene fuori questa schifezza qui e vi rendete conto che questa roba qua non va bene cioè i vari step che avete fatto in precedenza non sono non vanno bene o sono tirati via o è mancata l'analisi del lavoro il disegno della silhouette deve essere già completo cioè deve già suggerire quello che sarà il soggetto poi dalla silhouette vedete che si possono anche percepire vari ed eventuali errori magari questo ha le braccina un po corte per cui posso fare delle correzioni a livello di di silhouette per cui ok adesso gli allungo un pelo il braccio ok tanto è solo indicativo poi la metto a posto anche l'altro che l'abbia fatto corto uguale di conseguenza e voilà e adesso la silhouette un po più corretta tutti i vari passaggi vanno fatti per bene per cui tutti tutte queste analisi qua devono funzionare se avete una silhouette fatta così con della roba che sbuca con delle vuol dire che a livello di volumi avete sbagliato ok per cui non non sottostimate i passaggi iniziali che magari per voi sono più noiosi perché soprattutto chi impara a disegnare ha molta fretta e vorrebbe far tutto vorrebbe trattare tutto ma non funziona così il lavoro del disegnatore è un lavoro fatto di pazienza è un lavoro fatto di correzioni di analisi molto complicato dal punto di vista mentale cioè vi dovrebbe stancare a livello mentale è l'unico modo per migliorare sensibilmente è quello di analizzare quello che fate farlo per bene vediamo un po di esempi che ho scaricato da internet di silhouette per capire come come funzionano partiamo da questa allora sto tizio qua è la silhouette di un tizio di un fotografo che sta facendo una foto dalla silhouette capite già qual è la sua posizione capite che è un uomo capite qual è la gamba che è più vicina a noi rispetto a quella che è più lontana eccetera eccetera per cui quando voi avete fatto i volumi e la struttura e tirate quelle linee continue per fare la silhouette quello che vi deve venire fuori è qualcosa che è simile a questo per cui adesso questa roba qua la facciamo in blu e vi ci disegno sopra la struttura così ci capiamo meglio cranio braccio destro è quello un po più avanti per cui qua probabilmente ci sarà il volume della spalla qua il volume del braccio qua il volume dell'avambraccio mano macchina fotografica bacino gamba sinistra questo disegno qua è già in prospettiva vedete che i piedi non sono allineati sulla stessa linea per cui già la silhouette comunque si suggerisce uno spazio tridimensionale che occupa la figura vedete che funziona funziona così quando dovete farlo voi dovete ragionare nello stesso modo per cui facciamo prima il cranio poi faccio il torace struttura della gamba sinistra struttura della gamba destra prima faccio la struttura senza i volumi poi ora proviamo a buttargli i volumi allora il volume della spalla braccio gomito avambraccio vedete che la distribuzione spaziale e viene suggerita con questa fase dei volumi poi il bacino scusate il torace il bacino gamba destra gamba sinistra ginocchio i piedi vabbè gli ho fatto la gamba alzata non è importante vediamo se la silhouette del mio pseudo manichino funziona assottiglio poi se volete proprio fare una roba dettagliata lo riempite di nero e vedete se perlomeno assomiglia a un essere umano perché tanto se non funziona la silhouette cioè non è che sembrerà la potete aggiustare dopo se nelle varie fasi non rispettate quelle che sono i parametri maschili umani come in questo caso andando avanti nelle varie fasi non è che la migliorate e questa è solo la fase di creazione della struttura dopo è chiaro che avete tutto il tempo necessario da dedicare a concludere il disegno e metterci tutte le cose tutti i dettagli più importanti però se già in queste fasi qua che sono le fasi come si dice preparatorie al disegno ci sono dei problemi non verranno corretti in seconda battuta per cui fatelo questo esercizio qua quando arrivate ai volumi create la silhouette dei volumi che avete fatto e vedete se ci sono dei problemi di tipo anatomico cioè se avete fatto un volume così c'è un problema allora lo lisciate ok ce lo mettete a posto a livello di silhouette proprio e poi correggete i volumi di conseguenza chiaro? questo è un passaggio importantissimo e su questo poi costruiremo quella che è la muscolatura vi ho preso a caso un po' di esempi di silhouette per farvi capire quanto è importante questo aspetto del lavoro del disegno guardate questa questa è una scena un'anatomia molto complicata perché è una torsione di un colpo del golf però nonostante non si vedano muscoli non si veda si vede solo la silhouette ma si capisce perfettamente qual è la dinamica ok questo qua appena fatto un colpo di quelli potenti che deve sparare a 300 yard però si capisce tutto si capisce come vestito si capisce in quale posizione è cosa sta facendo cosa sta colpendo cioè si capisce tutto solo dalla silhouette per cui non abbiate fretta di imparare a disegnare i muscoli se i muscoli sono in un disegno così cioè in una silhouette così sono una roba totalmente secondaria ci saranno pochissime linee che definiscono questo personaggio qua se la silhouette è così fatta bene per cui si capisce indicativamente si può capire anche la fisicità e l'età della persona solo dalla silhouette per esempio il fotografo è più giovane del golfista vedete che a livello di testa comunque questo sembra un po' più stempiato un pochino più con meno cappelli vediamo qua Jordan probabilmente un giocatore di basket si capisce tutto vedete che il disegnare i muscoli è alla fine super superflua perché è già tutto qua il disegno se la vostra silhouette se la vostra struttura è già fatta così allora disegnare i muscoli diventa una roba molto molto più semplice vedete che la posizione si capisce perfettamente si capisce che è sbilanciato in avanti si capisce in quale punto del palleggio è è tutto chiarissimo è solo a livello di silhouette per cui adesso me lo alleggerisco aggiungo il mio layer e se inserisco i volumi lo faccio senza esagerare senza creare delle deformazioni anatomiche bozzi robe strane perché vedete che nella figura non ci sono c'è un essere umano per cui vabbè in questo caso è allenato per cui si vede qualche bozzetto in più a livello muscolare però vedete qua questa gamba qua sarà un po' più avanti infatti vedete che questo ginocchio qui è più grande di questo perché a livello di volume sta venendo in avanti e poi sarebbe così 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 questo il braccio che va indietro questo e l'altro l'avambraccio che viene avanti quindi si vede anche dove ha le dita per tenerla a parte ok voilà se faccio la silhouette di questa di questo mino qua viene una roba simile a questa questa qua probabilmente è una foto ritagliata o comunque fatto con un po' meno fretta ok e avete già l'idea di quello che sta succedendo e di quello che sta facendo vedete che la mia silhouette non suggerisce lo stesso movimento di questa era solo per farvi capire ok bisogna spenderci un po' di tempo quello che dicevo prima sulla gesture e sullo sbilanciamento dei pesi eccetera eccetera però l'importante è che sia chiaro il concetto vi faccio vedere l'ultima vediamo voilà vedete che stessa roba nella nell'aspetto maschile femminile cioè nel momento in cui avete una silhouette fatta bene adesso rasterizzo ok se avete una silhouette fatta bene cioè si capisce è una giovane donna ha lo stivale ha la minigonna borsetta cioè si capisce tutto dalla silhouette se quella è fatta bene tutto quello che ci disegnate sopra che hai muscoli linee vestiario eccetera eccetera sarà comunque perfetto cioè serve poco cioè se dovesse disegnare questa roba qua all'interno della silhouette quindi metterci i dettagli cioè devo fare solo delle linee che diversifichino i materiali gli spazi se è la maglia se è piuttosto che ha la gonna cioè dove chiudono gli stivali però a livello di disegno devo aggiungere ben poco perché tutto il lavoro l'ho fatto prima cioè sulla struttura sulle proporzioni sui volumi sulla silhouette chiaro allora scusate se ho disegnato poco e spiegato tanto ma la teoria è importante perché poi la pratica non è che la potete fare in 20 minuti di video dovete mettervi lì per il conto vostro e disegnare tanto esercitarvi tanto ok niente spero che questo video vi sia piaciuto se vi è piaciuto mettete un like solita storia scrivete vi iscrivete al canale e aspettate come al solito i nuovi video un saluto a tutti e ci vediamo alla prossima lezione grazie a tutti